Lo svincolo della sassella finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Ad accendere le luci sull'opera restano invece le polemiche sollevate dalla minoranza di Sondrio, che da sempre si è detta contraria. Il progetto è pronto e, secondo l'amministrazione comunale di Sondrio, non determina compromissioni significative del contesto ambientale. Il tutto comunque sarà presentato ufficialmente mercoledì alla presenza dell'assessore regionale Claudia Maria Terzi. Teniamo conto che parliamo di progetto definitivo, per cui prima dell'esecutivo si potranno apportare ulteriori modifiche. Sulla necessità dell'opera per la viabilità della provincia di Sondrio ci sono pochi dubbi che possa essere un'eredità dei giochi di Milano-Cortina 2026 e altrettanto assodato. Tutti noi teniamo l'area della sassella, quindi siamo attenti a una progettazione che sia più possibile rispettosa del contesto. Mi pare però che ci sia un allarmismo eccessivo, che sulla stampa venga descritto questo progetto come un mostro, ma assolutamente di mostro non si tratta. Quindi dobbiamo anche essere oggettivi, realisti, perché è bene che queste opere si facciano cercando di farle con l'attenzione dovuta. Mercoledì il confronto a Sondrio di Anas con le categorie economiche, i sindacati e gli amministratori coinvolti. Ma il PD, per voce di Michele Iannotti, non ci sta. Ma quale coinvolgimento? Spiega in una nota firmata anche da Fabio Pizzul, il capogruppo PD in regione. A parte i contatti con il Comune di Sondrio e quelli più marginali con l'amministrazione provinciale, nessun altro soggetto istituzionale, sociale, politico ed economico è stato chiamato un tavolo di confronto attorno alla progettazione delle infrastrutture viarie legate alle Olimpiadi 2026. La notte si conclude dicendo stiamo parlando appunto di opere importanti come lo svincolo della sassella ed il superamento del passaggio livello di montagna in Valtellina. Ma il sindaco di Sondrio, Scaramellini, non ci sta e risponde. Avremo comunque il progetto esecutivo, quindi nel passaggio tra il definitivo e esecutivo ci attendiamo che le nostre osservazioni siano tenute in considerazione per migliorare ulteriormente l'impatto sull'ambiente. Mercoledì dunque il confronto con ANAS e il territorio. Si parlerà anche di questo.